Ciao amici, oggi ho per voi una domanda, anzi quattro domande. È possibile coniugare ciò che tu sei bravo a fare con ciò che ami fare, con ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui sei pagato? Sì, mettendo insieme questi quattro elementi riusciamo a realizzare quello che è il nostro ikigai. Cos'è l'ikigai direte voi? È una parola giapponese, anzi un concetto giapponese che è abbastanza intraducibile in italiano ma che sostanzialmente significa ciò per cui vale la pena vivere, ciò per cui vale la pena alzarsi ogni mattina e fare tutto quello che facciamo. Cercare il proprio ikigai significa trovare ciò che veramente si è e ciò per cui realmente ciascuno vive la vita che sta vivendo. Non è una cosa irrinunciabile, è un percorso personale che va iniziato, sperimentato, ricercato e portato avanti. Presto io e la mia collega Petrina Braghesiu porteremo avanti un discorso sull'ikigai e presto vi diremo, anzi vi consiglio di andare a vedere anche la sua pagina Facebook e pagina Instagram, counselor anche lei, Petrina Maria Braghesiu, lei è molto più brava di me a dire tutte queste cose e vi invitiamo a seguire i nostri seminari sulla comunicazione e sull'ikigai. A presto amici!